Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di Cinoa, sono Giulio, anzitutto vi faccio gli auguri di buono e vi chiedo scusa perché nelle due recensioni che abbiamo appena pubblicato ci siamo dimenticati di farvi gli auguri, quindi ve li faccio adesso di persona e vi auguro un 2020 bello, sereno e pieno ovviamente di Cinoa visto in sala. Volevo fare la recensione di un film che esce in questi giorni nelle sale italiane che esce esce il 13, 14 e 15 gennaio, quindi lunedì, martedì e mercoledì della settimana che entra che è Leonardo, le opere. Leonardo da Vinci è stato festeggiato in maniera eccezio giustamente in tutto il 2019 per i 500 anni dalla sua morte e questo è un film conclusivo di questo percorso che ha portato al Cinoa tantissimi film, vado a memoria almeno tre o quattro solo in un anno dedicato a un artista, direi un artista è anche limitativo, a un genio, un genio assoluto in qualunque campo si cimentasse era veramente un'apoteosi e questo è un percorso, un docufilm che traccia un viaggio nella vita di Leonardo da Vinci, un viaggio che può essere diviso in due parti, una prima parte che è dedicata alla sua vita proprio del quotidiano come lui diciamo così campava a vivere perché comunque è stato un artista che ha girato tantissimo l'Europa, principalmente ovviamente Italia e Francia ma anche altre parti dell'Europa e che in ogni luogo dove andava lasciava un segno, un segno che è indelebile, un segno che ad oltre, anzi a 501 anni dalla sua morte si ricorda ed è fonte di ispirazione quindi questo docufilm che è un docufilm molto lineare, molto semplice, non ha una struttura narrativa particolarmente sviluppata, è semplice ma è altamente divulgativo, altamente educativo altamente interessante perché? Perché come dicevo c'è una prima parte in cui si racconta un po' la sua quotidianità, la sua vita sia di uomo che di artista come si è mosso tra le varie corti, nei rapporti con i vari conti signori con cui si è dovuta confrontare o con i vari personaggi illustri, anche papi della politica del tempo e un'altra parte che è la seconda parte, un documentario dura circa 100 minuti, c'è una parte veramente molto molto interessante su tutte, su tantissime opere, sono circa una ventina le più famose ma anche quelle meno famose ovviamente c'è la Gioconda, l'ultima cena, la donna con l'ermellino, Salvatore Mundi, tutte le grandissime opere e tante altre vengono analizzate e vengono analizzate per ogni opera viene dato 5-6 minuti di approfondimento, un approfondimento sia visivo o molto interessante ed è uno dei motivi per cui a me questo fenomeno, la grande arte al cinema piace da morire perché ho la possibilità di vedere veramente da vicino, quasi di sentire il profumo della pittura, dell'opera e gustarmi così da vicino in una definizione ultra HD eccelsa per cui tra l'altro se uno non ha la possibilità di visitare tutti questi musei dove tutte le opere di Leonardo sono sparse in giro per l'Europa e il mondo è un modo veramente intelligente e utile per poterle vedere e le vedi proprio da vicino, addirittura di più che quando si va a vedere un museo in primis ne vedo diversi e però non devo dire la verità non me la riesco a gustare così come mi capita in cinema perché il cinema è un luogo buio dove sei concentrato a guardare quello che si proietta davanti allo schermo e non hai alcun'altra distrazione quindi secondo me si gusta ancora di più il dettaglio delle opere perché il quadro nella sua interezza lo vediamo ma il particolare secondo me è il tocco in più che rende questi artisti dei maestri e degli assoluti geni e quindi vedendolo al cinema riesco a gustarmi di più questo particolare a capire anche di più da semplice spettatore la tecnica utilizzata e la qualità artistica dell'uso del colore, delle luci, delle ombre e di come la figura viene fuori. Questo documentario fa questa cosa in maniera veramente notevole nonostante, ribadisco che è l'unica critica che mi sento di fare a questo documentario nonostante una struttura veramente lineare, semplice, basica per cui basta solo seguirlo nel film non vengono fatti particolari ragionamenti, è una serie di aneddoti e di informazioni spiegate benissimo, chiarissime e dirette per cui lo spettatore nel guardare apprende tantissimo di chi era Leonardo da Vinci, dove era nato, anzitutto si parte proprio dalle sue origini e di come lui si è trasformato e si è relazionato con le figure politiche ed è visivamente meraviglioso soprattutto la seconda parte che è proprio un'analisi delle opere che scorrono sullo schermo vengono inquadrate in centomila punti dalla macchina da prese quindi si ha una visione intera e completa dell'opera d'arte e quindi questo è un modo assolutamente interessante e anche veloce per apprendere una conoscenza che comunque ci appartiene dico noi italiani ma in realtà Leonardo da Vinci è una figura artistica che riguarda il mondo e questo documentario spiega bene tutte queste cose da un punto di vista soprattutto pittorico di come Leonardo da Vinci ha influenzato la cultura di dipingere di allora ma che quell'influenza si trova anche oggi quindi è una bella esperienza cinematografica da vedersi sul grande schermo nel quale oltre alla parte appunto iniziale documentaristica della vita di Leonardo con immagini anche diciamo così d'archivio cioè di manoscritti dove si racconta cosa ha fatto intervengono dei personaggi illustri del settore che alcuni raccontano particolari della vita di Leonardo altri raccontano e spiegano in maniera assolutamente chiara, precisa e diretta il significato di certe opere di Leonardo, lo studio che è stato fatto per crearle e il significato simbolico che in tante opere vengono fuori quindi il risultato è nella sua semplicità un documentario che funziona molto molto bene che ho trovato assolutamente affascinante e che consiglio di andare a vedere perché vedere le opere di Leonardo da Vinci al cinema è qualcosa di clamoroso su un bel grande schermo a cui devo aggiungere nel montaggio soprattutto nella seconda parte viene inserita una musica da tappeto una musica di atmosfera che rende le opere assolutamente magiche e affascinanti e insomma è uno dei grandi motivi per cui la musica ha così presa nel cinema perché sottolinea, esalta quello che vedi come fanno le colonne sonore nei film dei blockbuster, dei film mainstream ecco anche nel documentario esalta l'eleganza e la bellezza delle opere in questo caso di Leonardo da Vinci che a distanza di 501 anni è un'icona assoluta della cultura, dell'arte, dell'intelligenza, del genio della creatività insomma qualunque assoluto positivo vi venga in mente applicato a Leonardo è appropriato questo è quello che volevo dire in merito alla recensione di Leonardo, le opere che appunto ripeto esce il 13, 14, 15 di gennaio quindi questa settimana è un film che assolutamente vi consiglio per questa recensione è tutto, vi rinvito a iscrivervi al canale youtube di Cine TV L'Andia e alla prossima, ciao! Grazie! Grazie! Grazie!